Tito De Rosa soddisfatto per la qualificazione dei semifinali, DR sempre in fondo arriva? Ma prescindere indubbiamente fa piacere, però l'importante è che il torneo abbia il suo svolgimento regolare, non ci siano interruzioni di carattere eccessivo e nel temperamento, negli atteggiamenti dei giocatori e poi infortuni, niente, facciamo gli scongiuri, siamo nella fase finale del torneo ancora una volta c'è stata una bella partecipazione, ma abbiamo visto soprattutto un buon gioco nelle squadre al di là dei risultati un po' pomposi, un po' forti, c'era molto equilibrio in campo e quindi a livello organizzativo siamo veramente soddisfatti Gli sponsor sono contenti? Gli sponsor sono contenti perché almeno coloro che hanno partecipato, ma gli altri si sono incuriositi Sicuramente ci sarà un seguito in futuro per lo sviluppo E chi vede in finale Tito? In finale non è escluso il Novara, non è escluso, ma io non escluderei neanche la squadra che è passata stasera e che è l'ADR Vediamo, tutto è possibile Sicuramente sono le quattro squadre che hanno espresso il miglior gioco fino adesso Stai facendo fuori l'amico Mancinco No, non è scontato, tutt'altro Infatti ho detto che sono le quattro squadre più titolate che hanno espresso il miglior gioco Quindi può passare chiunque, io e l'augurio evidentemente, ma io sono un po' di sopra delle parti Quindi che ci sia il bel gioco e che trionfi il piacere di stare assieme e il successo del torneo Questo è quello che...